Gli alunni del Plessor Ordinò dell'Istituto Comprensivo Maria di Gioiosa Mammola hanno presentato il magico presepe vivente dei bambini, la comunità si fa presepe. L'iniziativa è partita dalla centralissima piazza Zaleuco a Maria di Gioiosa Ionica per poi spostarsi nelle altre vie di Ecenti. Un corteo gioioso di genitori e bimbi che hanno animato del magico natale le strade di Maria di Gioiosa Ionica. È uno spettacolo meraviglioso vedere un presepe vivente realizzato con le loro mani. Questo è quello che noi auspichiamo che questi tipi di attività, queste tradizioni si possono riprendere e divulgarli. Oggi è stato fatto qui presso la scuola elementare e speriamo che il prossimo anno possiamo realizzarlo in una location migliore dove può essere visitata da parte sia dei nostri cittadini ma anche quelle di fuori. Oltre ai bambini, oltre ai docenti, oltre al dirigente scolastico c'è la collaborazione di tutti i genitori, ma anche dei nonni, di zii, di parenti, quindi della comunità tutta. Diciamo che è la prima volta che all'interno del plesso Rodinò si svolge una manifestazione del genere che ha visto la collaborazione di tutti i docenti, grazie naturalmente al beneplacito della nostra dirigente che è sempre pronta ad accogliere queste iniziative. Poi magari vi spiegherà anche lei. Diciamo che i bambini sono stati entusiasti a partecipare a tutte le attività laboratoriali e hanno coinvolto tutte le classi, dalla prima fino alla quinta e hanno realizzato veramente dei manufatti incredibili. Abbiamo allestito capanne, luci. È stato veramente un progetto interdisciplinare a 360 gradi, così come adesso si deve lavorare nelle scuole in modo interdisciplinare a classi aperte. Infatti è da quasi un mese che veramente non c'è la classe, ma c'è un via vai tra classe, una collaborazione reciproca tra docenti, alla ricerca anche di arnesi antichi, che il tutto poi si vedrà nel nostro presepe.